Dobbiamo essere i blogger dei giorni nostri, ha commentato così padre Enzo Fortunato, responsabile della comunicazione del Sacro Convento d'Assisi nel suo intervento durante l'incontro che si è svolto sabato scorso presso l'Aula Consiliare della città di Agropoli, dal titolo nel nome di Francesco. Per l'occasione inoltre sono state ripercorse le celebrazioni degli anni Ottocento dalla presenza di frate Francesco ad Agropoli e del suo incontro con San Daniele Fasanella. È un bellissimo momento di fede e mi rendo conto come anche la Chiesa abbia cambiato il modo di manifestare il proprio modo di essere. Padre Fortunato sembra un po' un blogger dei giorni nostri perché si fa sentire, esce dalle porte della Chiesa per dire che il bene non solo si deve fare ma si deve anche mostrare perché quando si fanno le cose questo deve essere come una malattia contagiosa. Allora non dobbiamo rimanere dietro ai computer a scrivere soltanto, dobbiamo uscire in mezzo alla gente, dobbiamo avere il coraggio di mostrare quello in cui crediamo. Poi ci sono quelli che vogliono fare il bene durante le ore d'ufficio, vogliono fare scrivendo dietro al computer. Padre Fortunato ci ha insegnato stasera invece che noi dobbiamo essere i blogger dei giorni nostri. Quando qualcuno ha una buona intenzione non deve avere mai paura di mostrarla perché poi alla fine ognuno è sempre quello che è e anche quello che fa. La città di Agropoli si freggia del titolo di città che legge ed ogni iniziativa che prevede la promozione della lettura per noi è entusiasmante poterla sostenere. Ha così commentato invece il consigliere comunale con delega alla cultura Francesco Crispino. Non poteva essere diversamente perché Agropoli può freggiarsi del titolo di città del libro, di città che legge, quindi a loro quando ci viene proposta la possibilità di poter presentare un'opera siamo veramente entusiasti della cosa. Poi riveste un'importanza ancora maggiore quella di stasera perché grazie all'associazione Spirito Francescano che si è costituita da qualche anno nella nostra città abbiamo la possibilità stasera di poter nuovamente toccare che un mano un momento veramente importante dello spirito del poverello d'Assisi. Grazie. Grazie.